Buongiorno, sono Glauco Tesei, responsabile della palestra Smash Fitness & Medical. Abbiamo scelto la TV Rossini per pubblicizzare la nostra palestra, è stata una scelta giusta perché la TV si è rivelata molto professionale, bravissimi, molto gentili e abbiamo avuto anche un buonissimo riscontro con il pubblico perché ci fermano per strada e ci chiedono ah ti ho visto in televisione, è stata una cosa molto carina e quindi è un'esperienza che ripeteremo sicuramente nel tempo. Grazie